ok siamo live buongiorno aspiranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di convivium questo mega esperimento online che ormai sto portando avanti da 54 56 58 giorni non so ho perso il conto comunque sono tante in cui giornalmente faccio una pillola insieme degli ospiti fantastici parliamo di fotografia ma anche di tutto quello che c'è dietro della sua filosofia e insomma sono davvero contento di questo progetto ma soprattutto sono contento oggi di avere qui con me un grande poi adesso ne parliamo perché ha fatto un sacco di cose che mi sono piaciute tantissimo un'esperienza pazzesca fabio lovino buongiorno ciao a tutti ragazzi ciao ciao a tutti i tuoi follower tutti i tuoi adetti anzitutto come stai tutto bene 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 tutto bene anch'io questa sessantena la sto vivendo in casa famiglia insomma poi h24 coi ragazzi però tutto bene direi faccio anch'io queste dirette dal primo giorno questo viaggio nella fotografia grande sì ho visto che allora il problema è che in questo periodo secondo me ci sono due tipologie di persone ci sono i produttori e i fruitori io provo a fare entrambe le cose no però facendone una al giorno mi viene un po difficile poi riuscire a seguire tutto però ho visto che anche tu fanno la diretta al giorno fighissimo noi facciamo una zona adesso ci siamo presi un tempo quindi non facciamo oggi anche perché io sono qua domani ma riprendiamo lunedì noi abbiamo fatto siamo tutto un viaggio vero e proprio nella fotografia dall'inizio cioè quindi parlando di tutti i grandi autori scomparsi quindi da so dall'artiglia bilstran marie ellen mark margaret burkwai e poi ovviamente rober capa cartier person tutti questi grandissimi fotografi passando poi per eliot erwitt ave do ingir big pen abbiamo fatto un sacco di puntate anche sulle donne quindi da arrivando fino a letizia bastaglia per annie leibovitz lisette model sono tantissime francesca woodman naturalmente simbi sherman and golden anche tra l'altro facendo tutto un percorso sul sullo storytelling piuttosto che sul l'autoritratto il racconto delle storie i lunghi progetti abbiamo analizzato il lungo progetto di diane leibovitz con susan sontag lo stesso poi abbiamo fatto per francesco zizzo la stefano de ruigi davide monte leone david barnett veramente abbiamo fatto fantastico scusami venendoci un po noi in come dire un po in disparte io lo faccio insieme ad angelo turetta che è un altro grande fotografo e cercando di non avere un'auto referenzialità ecco ok ok beh bellissimo comunque anche l'idea di appunto esplorare gli altri fotografi grandi fotografi che hanno fatto la fotografia la storia è interessantissimo penso di sì perché comunque poi specialmente con i contemporanei che naturalmente parlano da londra da mosca dalla colombia dalla da parigi da new york quindi abbiamo fatto un giro veramente tutto il mondo quindi scegliendo anche degli orari che potessero andare bene per tutti devo dire che è stato molto è ancora molto interessante perché poi stiamo continuando siamo passati nella nella moda naturalmente il ritratto nel rock abbiamo fatto nel fotogiornalismo insomma è molto interessante è il nostro diciamo c'è il nostro pane quotidiano e però abbiamo visto che c'è anche una possibilità di qualche modo di divulgazione alta diciamo devi studiare perché poi noi abbiamo molti riferimenti anche alla musica della letteratura al cinema insomma è un po la nostra formazione direi ok bellissimo tra l'altro dove se uno volesse fruire dei contenuti dove potrebbe trovarli allora uno sono su youtube viaggiando nella fotografia quindi abbiamo fatto proprio fatto creato questo questo spazio e se no sulla mia pagina facebook o se no sulle storie di instagram io lo faccio su due diciamo format paralleli e poi li metto comunque su youtube dove dove siamo ora ok perfetto quindi insomma su tutte le piattaforme sei multi piattaforma su tutte le piattaforme anche perché specialmente usando questo stream yard chi ha il computer noi possiamo fare la condivisione delle foto degli autori in modo che tutti possono vedere anche a grande formato perché se hai un monitor di 30 pollici è come andare a una mostra no e quindi anche per rendere un po più tangibile come dire il percorso anche analitico che facciamo bello bello super bello interessante uguale io ho stato combattuto fin dall'inizio se far vedere le foto degli autori che ospitavo oppure no e alla fine ho scelto di no proprio un po per fare come dire dei contenuti un po diversi no ma non diversi complementari ecco che credo che sia la cosa giusta da dire perché diversi e se pensare diverso diverso solo io no ok però complementari invece interessante è un po perché alla fine mi piace più parlare della filosofia della fotografia e nel caso spingere le persone ad andarsi a vedere gli autori poi sul loro siti sul loro cose e l'ho trovato molto interessante invece chi come te fa un procedimento appunto complementare al mio quindi che mostra le foto e parla delle foto attraverso l'autore e che sono entrambi molto interessanti diversi anche io ne ho fatta una che era proprio dove si può parlare di fotografia senza far vedere le foto poi ovviamente almeno con tutti quelli che ci seguono forse l'avrai sperimentato anche tu poi chi ti segue c'è tutto momento interattivo con te che vanno su wikipedia vanno su google cercano guardano fanno quindi abbiamo noi io ho creato proprio una bibliografia quotidiana con tutte le cose che citiamo anche di musica o di letteratura perché ci chiedono in continuazione mi sembra anche molto interessante di avere come dire poi gli agganci delle cose di cui parlo certo bellissimo bellissimo anche questo certo devo dire di sì grande e beh allora adesso parliamo di te oggi facciamo quello che tu non fai mai cioè parliamo di te ok raccontaci un po' come è iniziata la tua carriera nella fotografia come qual è stato l'inizio del tuo percorso perché io so che hai fatto un sacco di cose peraltro ne parlavamo anche fuori onda adesso sei non so partner fuji anche se qualche parte nel fuji che sai che io adoro così tutta la gente che mi seguo lo sa hai lavorato nella musica cosa che peraltro mi piace tantissimo io ho suonato per dieci anni tanta cantato per dieci anni sì cosa hai suonato ma io c'ho ancora una martin 12 una suzuki poi c'ho un'altra chitarra una chitarrista quindi allo studio sì ok potremmo mettere su un gruppo mi serve solo il bassista e batterista mi mancava qualcosa ma beh quelli ce li ho ma sì e no però devono essere fotografi capito facciamo tipo il gruppo sì 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 no no ce l'ho io ho un mio ex assistente bravissimo c'era tipo 15 chitarre un altro bassista molto bravo allora dobbiamo farlo per forza sì 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 volendo sì e no quindi come hai iniziato ho iniziato che ha iniziato a fare foto a 16 anni quindi portavo tutti i miei amici e le mie amiche in una casa che avevo al mare in quelle cose che si facevano un po' questi grandi mischioni e poi ho iniziato lì a fare le foto già le stampavo avevo una grande stanza nella casa dei miei dove poi era anche quello un altro modo per vedersi comunque c'era la camera oscura un po un viaggio no non so se qualcuno ancora stampa però proprio un viaggio risergico in qualche modo chimico e dove naturalmente sta in questo uovo che ti ingloba un nuovo di sensazioni di esperienze di emozioni perché poi naturalmente ai conti la musica e questa luce bassa queste luci rosse o gialle che hai tipo or sai che quando tu non vedi bene l'occhio si deve piano piano abituare a quello che vedi a un certo punto è la percezione anche al buio di quasi tutto e quindi proprio della percezione tattile visiva che aumenta oltremodo aumenta la percezione proprio di trolocutoria con quello che tu stai facendo quindi non è un'inversione d'acqua calda però infatti adesso devo dire che tutti gli assistenti che ho quasi nessuno stampa ormai da anni ovviamente perché fanno tutti photoshop è molto interessante però vedo che c'è anche un grande ritorno alla stampa analogica quindi proprio con l'ingranditore perché è un passaggio secondo me per far bene photoshop forse non è necessario però se uno conoscesse bene anche la stampa analogica no potrebbe essere una cosa anche perché come dire il fatto di stampare le proprie foto ti dà anche ti fissa in qualche modo su su quello che hai fatto perché ormai sai in digitale c'è un editing infinito volendo perché si scatta molto di più e quindi se uno è capace c'è anche molto più materiale da selezionare non c'è più quella cosa meccanica di osservare i provini segnarli e poi scegliere quello lì faceva una selezione molto più sintetica a un certo punto del lavoro no qui è molto più ampio quindi però perché poi questa ampiezza va a finire su non so io ho quasi 100 terabyte di hard disk di archivio tutti i rav ovviamente tutti con doppio i raghi con doppi hard disk perché comunque è materiale molto molto volatile che molto labile questo l'abbiamo sperimentato prima si salvava tutto su hard disk su cd dvd poi sono passati alle hard disk anche questi hard disk comunque oppure disco solido insomma ognuno faccia le sue però sono comunque molto labili cosa che sperimento anche facendo film quindi subito mettere le tue memorie le devi subito doppiare poi le metterai su un server da qualche parte e questo il problema dello storage del materiale della produzione è abbastanza serio ci pensavo proprio l'altro giorno sì di quanto sia labile ma perché è successa questa cosa che per sbaglio ho cancellato un mio vecchio canale youtube in cui peraltro avevo anche delle canzoni delle cose no per sbaglio e non ho più i file di quei video lì di quelle cose lì che facevo e quindi sono rimasto a zee cioè non ho salvati solo sul canale sì perché i video li aveva fatti un amico che non li ha più non ha più l'originale e quindi non ho più gli originali di quella roba e pensavo quanto fosse volatile digitale no e appunto poi rimando è stato vabbè ok quelle sono andate speriamo di cioè devo trovare il modo per stoccare benissimo tutte le foto i file eccetera anche quelle vecchie nei workshop che faccio io ho più di 20 anni 20 più anche adesso naturalmente sono quasi 30 anni di materiale analogico e più da 10 15 adesso non so non mi ricordo quando c'è il digitale comunque che si è andato a sommare ovviamente stanno in due tipi di archivi diversi perché l'archivio analogico sta dentro dei contenitori quindi vuol dire ho eliminato quasi tutti i provini ne ho fatto una parte per gli artisti con cui ho lavorato da proprio da creare una mostra e ciò è naturalmente negativi a quei negativi si è sommato adesso tutto un lavoro digitale che però non sta più nemmeno un archivio fisico ossia c'ha un hardware che sono gli hard disk ma non ha bisogno di spazi con contenitori catalogatori che devono stare a secco a una certa temperatura quindi che succede che il vecchio archivio digitale questo vuol dire anche film si può in qualche modo deteriorata deteriorare e va a un certo punto va fatto un restauro non specialmente sui film adesso non senta per entrare meglio però restare sui film si fa su un fotogramma ogni cinque in modo che poi nella sequenza della velocità mentre qui invece se tu come è successo a te vai a perdere i file digitali i perdi cioè anche nella musica questo tu stai parlando di musica quindi perché tutti pensano archiviano e mettono la poi a un certo punto vai a cercare e lì non c'è niente l'archivio deve essere molto preciso questo è quello che io cerco in qualche modo di far capire anche a tutti gli assistenti che vengono allo studio e anche al quando faccio i workshop perché è fondamentale per un professionista è fondamentale ma specialmente avere un archivio con il più possibile di tag il più possibile più possibile indicizzato per qualsiasi tipo di ricerca che non può essere più ormai solamente mnemonica perché se no no certo sì 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 certo assolutamente ma infatti i primi anni in cui facevo fotografia così come passatempo o come diciamo lo buttavo dentro avevo degli archivi cioè tipo foto mie belle foto mie mie foto mie super mie mie così no e quindi capito adesso a distanza di quattro anni non saprei più dove mettere le mani invece ora ovviamente negli archivi tutto registrato tutto per cliente per cosa con le selezionate con le cose con quelle tutto fatto un lavoro certosino che appena bisogna di una cosa la vado a ripescare però è stato un processo un processo è interessante quello dell'archivio soprattutto digitale perché è davvero labile cioè sai mentre il fisico ce l'hai lì e quindi vedi anche cioè se fisicamente si sta deteriorando lo vedi cioè se è lì si è tenuto bene ovviamente forse il colore è un po più suscettibile diciamo a variazioni no io poi per esempio ho lavorato moltissimo in pellicola cinematografica sia nelle tourne di rock che sui set dei film anche facendo ritratti perché innanzitutto c'era un triacetato che era di vari millimetri non era come la pellicola certo perché devi considerare che dal frame della pellicola cinematografica che è 35 millimetri viene usato in verticale quindi il frame è la metà di un 35 millimetri ok perché passa nella lettura della macchina sì certo quindi da quel piccolo frame fai le proiezioni sugli schermi dei 6 metri per 12 con una definizione incredibile ovviamente dipende dalle lenti ma lo strato di proprio il triacetato lo strato di chimica che c'era era una cosa pazzesca quindi dalla pellicola cinematografica non so se le persone lo sanno però quando la vai a stampare che non è stampare su un foglio vai a sviluppare a stampare praticamente poi si passa a contatto tu da un'unica foto a negativo diapositivo a colori e negativo in bianco e nero come dire fantastico in più altro che fa il raw no pazzesca molto molto di più ovviamente molto molto di più ovviamente si può deteriorare nel tempo però per esempio quando noi andavamo a fare i concerti in giro per il mondo i tour facevi inizialmente facevamo 50 60 100 rulli a sera di diapositive o di negativo quando hai la pellicola cinematografica e ti veniva data sui set ovviamente ti danno come dire delle pizze da 300 metri che loro solitamente buttano con 300 metri ci fai 150 rulli gratis quindi da quei 150 rulli tu hai negativo a colori negativo in bianco e nero e diapositiva colori con un unico un'unica pellicola di una qualità infinita perché poi la pellicola cinematografica la potevi tirare moltissimo io l'ho imparato andando a fare i bagni come si chiamano i bagni chimici nei laboratori di cinema ho imparato moltissimo veramente dai grandi direttori della fotografia impari proprio a dare la luce quello che adesso si fa su photoshop che fanno i di it sul set si faceva prima si fa anche adesso però nel laboratorio cinematografico e io consiglierei a tutti chi vuole comunque alzare il proprio livello di andare a seguire una cosa del genere oppure andare una volta a vedere come si stampa in tipografia perché anche lì è un'altra cosa non è che tu hai una foto e poi va su un libro così per magia no si fanno le pellicole si fanno i filtri c'è tutto un lavoro molto molto profondo e anche lo stampatore o il selezionatore delle pellicole in tipografia è figura fondamentale nel senso per me è stata molto molto importante proprio anche per capire come fare determinate foto o come farle preparare agli assistenti in rgb quadricromia magari parlo di cose che pochi conoscono però fondamentale se vuoi fare professionista sono cose che devi sapere certo bellissimo e tu questo percorso quindi l'hai iniziato facendo le foto con i tuoi amici a 16 anni e poi qual è stato lo step successivo dunque io ho avuto una piccola o grande folgorazione a 13 anni vedendo la dolce vita di fellini in televisione in una visione tra l'altro vietata perché era vietata ai minori perché era vietata quindi un'altra epoca sicuramente quindi vi di questo film da cui sono rimasto proprio scioccato che poi ho rivisto dopo c'è stato naturalmente antonioni a leo petri fran capra morson wells pasolini però diciamo che quel film di fellini da dolce vita poi dopo temerla avrò visti centinaia di volte però a un certo punto l'idea del sogno metafisico mia proprio fixed come si dice in inglese no e quindi è un certo punto quello è stato primo shock dopodiché io poi ho fatto l'università ho fatto statistica che poi a un certo punto mollato perché già viaggiavo il mondo facendo concerti rock e quindi a 16 anni ti ripeto ho avuto la mia prima macchina ho cominciato a stampare quasi subito le foto quindi a svilupparle poi crescendo mi ricordo il bagno dei miei era pieno di foto delle zeppe di pp king dei police queste foglie di carta e poi si rotolavano stupendo sì e ora chiaramente sembra un racconto di un'altra epoca però poi quando facevi questi concerti aveva una parte a colore una parte bianco e nero si sviluppava la notte la mattina poi si andava a portare al tuo cliente che poteva essere la repubblica al quale della sera l'espresso naturalmente poi da lì poi c'era tutto lavoro a colori che andava sui giornali musicali o sui settimanali mensili in inghilterra in italia insomma adesso non so io l'ultima cosa poi a un certo punto di lavoro l'ho fatta con gli due e poi con i police sulla reunion del 2007 come ti sei tolto da lì non è che mi sono tolto a un certo punto devi fare pure delle scelte perché se stai poi li faccio ancora naturalmente però li fai con una due persone non sto più tanti mesi in giro perché poi stavo come uno zingaro moltissimo sul rock molto sul cinema in giro per il mondo quindi in più facevo ritratti quindi spesso dovevo dire di no perché stavo da una parte dall'altra e allora devi cercare un po di di scegliere insomma di tenere le cose sì abbastanza e però la musica è anche in un ha subito proprio una enorme trasformazione proprio quindi poi ho seguito naturalmente anche molti festival per vanity fair per il set del quale della sera quindi vari anche in reading la stromburi ma esistono delle figure ancora oggi dei fotografi itineranti nel mondo o per esempio una band come gli u2 non so viene in italia e ha il suo fotografo in italia e va in islanda il suo fotografo in islanda no 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 allora no gli u2 hanno anton corbin che è un grandissimo fotografo che ha fatto anche tepesh mode ha fatto molto sting e poi mi viene in mente quello che faceva per chi conosce questo ambiente anni leibovitz all'inizio come che faceva gick leiburg oppure altre fotografe perché molto affascinante il fatto che ci siano state varie foto gil furmanoschi per esempio che ha lavorato tutto il tempo con i police un'altra donna e poi ce n'erano moltissimi ovviamente e molti fotografi che facevano le copertine di dischi mi viene in mente anche david belli che è uno dei più grandi fotografi anche uno dei propri maestri del vele insieme al bim pen però anche loro facevano molto live quindi era una come dire era anche un modo per guido arari era anche un modo per conoscere giovani canitano luciano viti in italia era anche un modo per conoscere l'artista da un altro punto quindi quando tu vedi un artista che suona come dire che vive la sua musica poi dopo quando ci vai a fare ritratti lo conosci meglio molto meglio ah certo oltre a conoscerlo già come dire musicalmente cioè no poi io sono stato molto fortunato perché ho fatto 15 anni di lavoro con mark nofer con morris e degli smiths con i police un sacco di cantanti italiani amici la maggior parte quindi se a vent'anni ma esserlo detto giovane che farai 15 anni con mark nofer di dare straits piuttosto che con morris e non ci avrei creduto invece a un certo punto perché sembrava un regalo no e ancora penso che sia come dire un regalo quello nel senso che è uno scambio un dono ovviamente se tu poi fotografi persone come dire famose o comunque del lo star system quelli si chiamano talent celebrities come uno li vuole chiamare è possibile che innanzitutto spesso almeno qui in italia ma anche fuori la tua vita spesso si incrocia con loro con gli artisti qualsiasi tipo di artista perché la fotografia non dimentichiamolo come tutte le arti ha una grande contaminazione proprio contaminazione per me è stato fondamentale il cinema come la musica naturalmente però arte anche l'arte contemporanea io personalmente su di me credo che sia molto 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 importante il teatro per la fotografia meno per quella che faccio io più che la storia dell'arte ovviamente la storia dell'arte la devi conoscere perché specialmente adesso rispetto per fare un riferimento ai film di lynch che sono ispirati magari ai quadri di hopper se non conosci quella cosa l'anno un po interpretare non conosci quei film sapere che stanley kubrick sia ispirato alle foto di di dianne arbust per proprio le gemelline di shining sono ispirate alle famose foto dei twins che faceva dianne arbust ma allo stesso mi viene in mente molti film sono stati ispirati dalle foto di robert capa come grandissimi fotografi robert capa iv arnold e eliot eruit erano sui set perché la magnum aveva un'esclusiva sui set di film hollywood ma lo stesso anche i fotografi italiani perché poi sui film d'antonioni che era ovviamente come fellini come desica rossellini erano famosi non in italia ma in tutto il mondo no quando il cinema italiano era come dire il cinema di riferimento e quindi su quei set ovviamente andava si tazio secchiaroli tra il giudici tra turlon però poi ci andava robert capa eruit iv arnold e c'era un grande scambio e tutti questi fotografi si conoscevano tutti perché non sei chiaramente erano i più grandi fotografi ovviamente eliot eruit maggiori tutti i tuoi aficionado se lo conoscano era uno che a 18 anni ha fatto la sua prima foto quella del cane sulla fifth avenue e poi da lì è andato avanti mantenendo tra l'altro uno di quelli che ha mantenuto anche l'ironia nelle foto no un po come philip alzman e eruit a un certo punto oltre a essere un grandissimo fotografo di street street fotografo uno dei primi dopo è arrivata anche vivien meyer a un certo però lui cartier bresson lui in america cartier bresson dalla città slovacchia poi a parigi e ovviamente poi in giro per il mondo guerre a un certo punto hanno dato un segno alla fotografia che non era solamente il fotogiornalismo piuttosto che il ritratto no ma potevano ovviamente spaziavano ovunque mi viene mente adesso anche david barnett perché se hai come dire il talento la capacità e anche un auto come dire una certa severità con te stesso ecco di giudizio secondo me le cose le puoi fare anziché buttarsi a fare tutto come un mercenario perché fai tutto in realtà non fa niente quindi secondo me tanti di questi fotografi che hanno poi raccontato la storia della fotografia fatto anche a vedo non a un certo punto a vedo ci sono delle foto che nessuno conosce di avendo che sono le foto fatte magari alle feste di iniziazione ai 18 anni della grande società fatte tutte in laica non più col banco ottico 20 25 ma fatte con la laica 2000 asa 3000 asa tutto sovra e spapash di di due o tre stop su queste pellicole no quindi a un certo punto anni leboviz ha raccontato a fare una delle più grandi ritrattiste ma ha fatto vent'anni di tournée di rock con alman brothers famosissima la sua tournée con i lolly stones fatta a 25 anni quindi secondo me è sempre un punto di vista il famoso punto l'importante è quello che tu vuoi raccontare questa è la differenza e la cosa fondamentale per un fotografo è quella di trovare un proprio segno cioè di essere riconoscibile ovviamente le tue foto possono andar bene per certi e possono andare bene per altri ovviamente no come la musica però quella è fondamentale beh probabilmente proprio perché sei riconoscibile non ha fatto andare bene per altri no però il fatto di essere riconoscibile vuol dire che hai un segno che hai un carattere poi quel segno può anche variare nel tempo no perché ognuno di noi cresce e poi delle esperienze tu ognuno di noi che fa una foto ti puoi anche dimenticare dopo vent'anni di una persona o di una cosa che hai fotografato ma quando rivedi quella foto sai esattamente come stavi tu quel giorno come stava la persona dove eri se c'era il sole se era nuvolo se pioveva perché fa parte di te e ti entra nel sangue nel senso e tu a un certo punto vai un po a a sabotare la realtà quando fai le foto ecco ma guarda poi il punto cioè tanti eh ricercano questa cosa del essere dell'unicità in qualche modo no è anche vero che però l'unicità porta con sé eh la possibilità anzi no la responsabilità di essere diverso e di conseguenza di non piacere a tutti perché andate di fatto se se sei riconoscibile assolutamente sì però è cioè è anche un onere più uguale non piacerà nessuno alla fine perché poi quando piace a tutti cambia una moda e quello no e quindi invece devi riuscire a tenere dice uno che sono trent'anni fare questa cosa riuscire a tenere di questo non ho parlato spessissimo con toni torino un giovanni gastel con angelo turetta mio compagno di viaggio nella fotografia con giovanni canitano con guido arari loro poi ci hanno anche 10 15 anni più di me ma a un certo punto però quando condividi un percorso eh ho parlato proprio l'altro giorno con giovanni di questo e con toni ci siamo spesso incastrati con settimio benedusi ovviamente ognuno ha una sua eh percezione di quello che vuole fare è una sua espressione ovviamente quell'espressione è un'espressione personale che non può essere di altri ma è la tua proprio perché la tua è un unicum nel senso quel famoso guru cioè buio e luce eh rientra nella eh nell'unicità ognuno di noi è un essere unico che però fa parte del mondo di un globo non del mondo sì globo fisico però del mondo umano quindi ognuno di noi ovviamente è un essere unico e come essere unico potrà essere simile ad altri oppure no certo il patrimonio genetico è molto simile a tantissima parte del nostro della nostra parte d'Europa e sud dell'Europa no però eh non è detto che poi uno faccia le stesse immagini ma no ma nel stesso modo scriva gli stessi libri o faccia la stessa musica poi questo è un altro discorso perché ci sono i famosi critici che devono dire tu sei un cubista tu fai indie tu fai pop tu fai il trapper tu fai il rapper tu fai Mozart o Beethoven uno si esprime in un certo modo sono chi legge che vuole per forza identificarti e ti devono catalogare per una questione di comodità no quando dicevano a Picasso voi cubisti Picasso ha detto io non so cubista voi dite che io faccio cubista che so surrealista no io trovo una mia espressione va bene che è questa può darsi certi che la facciano come me ma non è che siamo tutti là che ci chiamiamo la mattina che foto fai te come che dipingi o che musica fai no quello viene da delle esigenze molto personali è molto diverso poi se uno vuole inventare forma 1 la pop art l'espressionismo il surrealismo o l'impressionismo i pittori impressionisti 10 anni non se li affilati nessuno li condannavano tutti perché faceva una roba che non era impercettibile fin quando una mostra uno ha detto ancora questi fanno delle impressioni esplodono gli impressionisti ma loro era un modo di dipingere non è che volevano fare gli impressionisti quello un critico che poi dopo ci avrà guadagnato ha detto questi sono degli impressionisti certo è perché etichettare in qualche modo da comfort alla semplifica è un modo di semplifica è un modo di semplificare basicamente no perché se uno può dire che fai il ritratto ma all'interno del ritratto ci stanno 100 modi diversi di fare ritratti fare musica rock va bene oppure fare foto di scena in cinema in teatro sì però ognuno le fa a suo modo è difficile etichettare noi paparazzi paparazzi è una cosa che non esisteva che se l'ha inventata tazio secchiaroli e pratur lon sono andati da federico fellini un giorno hanno fatto un giro a via veneto hanno fatto due scherzi ma non esisteva quel tipo di dolce vita via veneto non ci andava nessuno se lo sono inventati fellini e tazio secchiaroli capito è durato 15 giorni in roma certo c'era il famoso hollywood sul tevere ma non è che stavano lì stavano a piazza navona via del corso a piazza del popolo in altri posti poi è stata inventata questa cosa così di in effetti ridley scott io ho avuto piacere di lavorare su tanti film di ridley scott quando ha rifatto un film due due anni fa sul rapimento di john paul ghetti terzo giovane storia famosissima io avevo dieci anni quando fu rapito questo ragazzetto in a roma ha riambientato una scena incredibile di quasi tre minuti facendo un passaggio di epoca dagli anni 60 agli anni al 75 tutto in un piano sequenza a piazza navona perché piazza navona era il centro lì della di quel tipo di vita ridley scott con quasi 500 comparse macchine d'epoca dagli anni 50 agli anni 70 quindi persone vestite che si muovevano come negli anni 60 facciamo un esempio otto e mezzo di fellini poi con la musica sotto di otto e mezzo poi passavano a un certo punto nel settanta nel 65 poi nel 70 quindi zampa d'elefante colori sgargianti le fasce in testa tutto questo su un unico piano sequenza quindi a un certo punto ovviamente la sensibilità per poterlo raccontare questo la devi avere e ripeto non è che chi faceva le foto negli anni 60 diceva io sono un paparazzo piuttosto che sono un ritrattista no lo stesso david bayley che poi a cui antonioni si è ispirato per david hennings il personaggio di blow up david bayley è lui che ha creato è lui che ha creato quel movimento della swing in london david bayley con le sue foto con il modo di mettersi sopra le modelle fotografate a modo molto fisico che poi antonioni con l'aiuto di david bayley quindi è di nuovo un fotografo che ispira un grande regista che aveva un suo plot però david bayley era sul set insieme a far vedere a david emmings come doveva fare le foto come a un certo punto avedon ha fatto vedere su un film americano a fred astaire come doveva fare le foto col banco ottico e non è che il regista ha chiamato il fotografo del bar ha chiamato avedon questa è la differenza certo capito quindi a un certo punto io ho avuto la stessa esperienza con sono naturalmente felicissimo con marco bellocchio dove due o tre volte ho fatto anch'io quando lavoravo anche su quest'ultimo film dove se ti chiede una consulenza per come farebbe un ritratto un fotografo come creerebbe un set magari di un matrimonio e lì non è che lo va a chiedere a quello che c'ha lo studiolo no lo va a chiedere un professionista che ha un tipo di rapporto perché tu sai benissimo se chi vuole fare questo mestiere sa che è fondamentale il rapporto con le persone deve avere un rapporto empatico no basta poi poi io fotografo gente molto famosa e quindi c'è uno scambio anche molto gioco però che magari può stare un'ora due ore una giornata otto minuti spesso queste cose sono molto variabili un po come e volatili come gli art disc quindi devi avere quella capacità di interagire e ovviamente di poter mandare in questo uterone in questo tunnel che è dato in questo turno e dove dentro devono andare la tua creatività la tecnica la visionarietà che hai e dentro a questo ci deve entrare pure la persona che c'hai davanti che in quel giorno magari c'ha mal dei denti oppure felice ha vinto un premio ha vinto l'oscar ha vinto il davido natello oppure è triste certo oppure ha vinto ed è triste che è ancora peggio è triste perché è ubriaco cioè capisci un delirio io ti posso dire una cosa nel senso che gli artisti di qualsiasi livello quando sei artista è una grande fragilità e quindi ovviamente perché poi questa fragilità è data dal grande talento che hai anche dal piccolo talento tutti sono così e quindi la fragilità ti porta come dire a andare su percezioni anche molto scure ognuno infatti mi meraviglio molto a un certo punto che ti rock star vive ce ne siano così tante perché di rock star vive a di rock star che no perché se tu guardi un certo punto un percorso io speravo che a un certo punto qualcuno la salvasse mi winehouse invece no perché saluti lì a spremerla la casa discografica padre tutti devono guadagnarci quella poraccia era talmente lacerata da quello che aveva dentro però eravamo già nel 2010 15 non è possibile dopo tutte le esperienze delle grandi rock sarandate che nessuno protegga queste questo mozzard perché a me mimo e naus è come se mozzard fosse ritornato sulla terra a un certo punto no o tutto perché era un mix di nina simone di come dire di ella fitzgerald messe insieme quindi a un certo punto arriva un personaggio del genere va protetto come andava a protetto oppure certo che nessuno lo può fare perché tutti ci speculano sopra come robin williams mi viene in mente come philips euro offman come john bilushi insomma è pieno carco bene adesso non voglio dire questo sono tutte persone molto fragili perché hanno dentro un'esplosività creativa infinita e stanno se stai sempre lo dico perché lo stesso vale per me da tre illustri e stai sempre sotto giudizio di persone poi devono giudicare la tua espressività o l'arte se poi sei la grandezza porta con sé un sacco di bagagli da portarsi sulla schiena certo ovviamente ovviamente la dei cercare di non mettersi sulla schiena di togliere sempre la retorica perché sennò la retorica almeno secondo me uno dovrebbe sempre arrivare se possibile avere sempre uno scuro lo stupore negli occhi a rimanere sempre colpito da quello che vediamo almeno io dico per la fotografia ma questo vale per la musica vale per la letteratura perché sennò tutti scriverebbero lo stesso libro ma per fortuna invece di dostoieschi ce n'è stato uno no come anche di calvino a certo punto e jimmy hendrix pur era uno insomma se fossero tutti jimmy hendrix sarebbero noia mortale perché sarebbe un'uniformità incredibile no sì assolutamente ed è anche giusto che sia così cioè meno male che così appunto per fortuna che così anche perché certo perché è tempo sprecato cercare di in qualche modo assimilarsi ad altri no essere simile ad altri ma guarda io posso anche perché levi secondo me il fatto scusami secondo me il fatto di in qualche modo voler assomigliare agli altri toglie la possibilità di assomigliare a te stesso che potrebbe essere l'unica possibilità reale di realizzarti davvero allora su realizzare bisogna vedere abbastanza complicata come proprio la parola realizzarsi realizzarsi cosa vuol dire avere successo realizzarsi vuol dire o non avere successo o diventare famoso o guadagnare o guadagnare e invece io vi sento un po da questa cosa perché secondo me la io direi di trovare un focus dentro noi stessi se fosse possibile una centralità una centratura quella centratura ovviamente è molto faticosa perché anche può essere dolorosa può essere gioiosa e ha bisogno di un grande studio su se stessi proprio un grande studio anche intorno delle persone che intorno devi rabbit si dice in inglese non devi cercare di prendere un po di tutto quello che ti arriva e elaborarlo secondo il tuo modo di vedere perché somigliare a qualcun altro come fare una cover allora ci sono delle cover interessanti e ci sono delle cover molto banali quindi dei milioni di cover che hanno fatto di nel blu dipinto di blu di che una delle canzoni che dove abbia più cover al mondo insieme forse all'etb o one degli u2 allora di quelle cover lì quante ce ne saranno ascoltabili poi ognuno le fa e va bene però quante ce ne sono di questo ne ho parlato spesso con tanti musicisti naturalmente non ultimo paolo fresu che ha fatto una cover bellissima quindi a un certo punto paolo fresu grande tombettista italiano famoso in tutto il mondo diciamo insieme ricorava uno dei più grandi tombettisti al mondo e allora tornando alla fotografia se tu puoi somigliare a qualcuno diciamo quello potrebbe essere uno step ognuno di noi ha sognato in qualche modo anche ovviamente per iniziare sì io lo vedo anche i miei assistenti hanno un po il modo mio di fotografare di usare la luce di trattare con le persone no quindi questo lo capisco bene però a un certo punto poi da lì uno deve ti prendi delle basi e poi vai certo ovviamente è una ricerca difficile trovare quello che diciamo prima il punto il proprio punto il proprio segno perché il proprio grigio il proprio nero il proprio bianco capito la propria desaturazione è difficile è la cosa più difficile sì assolutamente poi da x punk posso dire che ripeto non puoi piacere a tutti perché sarebbe assurdo questa cosa qua anche bob marley che secondo me è stato il più grande di tutti va bene e comunque è riuscito a miscelare il sociale con la gioia e l'amore va bene probabilmente il suo percorso è stato un percorso molto sicuramente a molti può piacere altri no stiamo parlando proprio di uno che ha messo insieme tutti no destra sinistra indiani italiani marocchini asiatici europei indostati da messi insieme tutti tantissime culture diverse no quindi prima parlavo di arte l'arte in greco è l'innalzamento dello spirito umano la musica tendenzialmente sempre secondo i greci era il massimo dell'innalzamento di questo innalzamento quindi uno come bob marley era riuscito veramente ad arrivare a tutti ma pure john lennon e paul mccartney e che triccia ovviamente adesso senza fare andare per forza a cercare dei nomi però bob marley è arrivato a tutti facendo ballare dicendo delle cose di riot cioè di diritti dell'uomo no ha messo insieme marty ruther king bob kennedy kerouac insieme a a totò che era un altro grande comunicatore e che gesù cristo probabilmente l'ha messo insieme tutti e tre tutti questi essi insieme in un'unica persona in un momento giusto probabilmente no e quindi ovviamente sono rarità questi sono dei miracoli che accadono ogni tanto però anche lì bob marley non credo che la sua come dire il suo fine ultimo era quello diciamo voglio piacere a tutti ma manco per niente nel senso quello faceva una cosa che era il suo modo di vedere il suo modo di raccontare specialmente è arrivato in un momento dove c'era necessità probabilmente di quella cosa lì di quella rottura perché a un certo punto è arrivato il reggae è arrivato il punk no in un momento dove c'era un po una stasi musicale quindi ha rimesso completamente in in discussione tutto quello che erano delle grandi sicurezze tra l'altro è interessante questo parallelismo tra fotografia musica arte in genere no che poi c'è sempre sottile ma ma c'è evidente quanto sottile in qualche modo interessantissimo io facevo delle grandi discussioni anche litigi al liceo con la mia professoressa di filosofia perché tentava di dare la filosofia staccata dalla storia o dall'economia non è per niente così certo ma è quindi aspetta torniamo tornando alla all'università tu hai fatto le foto dei tuoi amici però poi hai fatto i tour internazionali in giro cose sono andato all'università come quasi tutti quasi tutti sono andato all'università per un periodo che ho mollato poi dopo un bel po di esami tanti però c'è un mio compagno di viaggio in vent'anni di turni di rock giovanni canitano ha mollato fisica tipo a due esami dalla fine quindi i pazzi ne esistono non è che so solo io e quindi e poi da lì dunque facciamo ancora università intanto come iniziato a fare foto di rock e di jazz di musici di blues insomma e ho cominciato a vendere le prime foto portandole come dicevo prima repubblica al core della sede ok quindi ha iniziato da subito lavorare per per testate in qualche modo per delle giornali per delle testate proprio così prendevo delle belle bravo e prendevo delle belle testate e poi lì allo stesso modo naturalmente era da lì in quell'ambiente a un certo punto di mattina di andare a fare il ritratto al musicista inglese a quello o all'attore quindi la mia prima foto venduta ritratto è stata di me lo ricorderò sempre perché ero molto giovane avevo 25 anni forse 26 ed era gilberto gil che era musicista famosissimo brasiliano che poi diventato ministro della cultura eccetera eccetera e quindi il mio primo ritratto venduto è stato in bianco e nero dice gilberto gil e poi da lì è stato tutto un percorso di sono passato passato parallelamente lavoravo moltissimo nel cinema quindi facevo ritratti di attori di attrici e vuol dire anche fare dopo gli scrittori gli artisti contemporanei nel senso che io ho bisogno comunque del materiale umano ho fatto per tanto tempo anche le foto agli orologi al food però poi non riuscivo non sentivo nulla parlavo ma non mi tornava spesso niente indietro certo non ti rispondevano no quasi mai quasi mai dipende dal livello di sergito dove arrivavi quando facevi le foto perché comunque fai uno still life una roba pazzesca e stai lì ore ore tutte le lucette robe che arrivano quindi sembra quasi che parli cosa devi prendere perché non puoi resistere così alla fine senti le voci come ulisse ma quindi che diciamo è stato ovviamente come sempre no tipo un percorso di step by step ma ti sei ritrovata all'interno di questo mondo musica che però sentirti parlare alla fine era un po anche forse inconsciamente quello che ti piaceva fare no quel mondo lì insomma ti danno dei pass per andare a vedere gratis i concerti in più ti pagano pure insomma ma che è un lavoro come nastroianni nastroianni gli chiedevano dice ma senta ma lei si deve svegliare così presto la mattina alle cinque e mezza alle sei dice capito però mi potrebbe anche capire di lavorare nella vita eh esatto esatto no no ma sono d'accordissimo perché guarda anche se più in piccolo però uno dei primissimi lavori per culo poi perché mancava il fotografo non so come è arrivato il mio nome a questo gestore di questo locale bellissimo uno dei più belli locali che c'è nella zona mi ha chiamato per lavorare per insomma scattare questo gruppo in questo pub era un circolo insomma e e poi da lì sono diventato il loro fotografo resident e quindi andavo lì e c'è per me capito il sabato sera era c'è meraviglioso mi ma cazzo però mi dispiace lavoro il sabato sera eh sì guarda mi dispiace un sacco anche a me sai questo lavoro ci distrugge e poi andavi lì davanti tipo dei visti concerti bellissimi pagati era meraviglioso ma io infatti anche con me uguale non esistevano sabato e domenica tant'è che magari c'hai le prime fidanzatine a quell'epoca ma domani è sabato usciamo sabato ma io al sabato non esco proprio sabato stanno tutti in giro tutti per strada no non esiste capito magari dovevo tonare dovevo stampare c'erano altre cose che poi erano forse importanti allo stesso tempo naturalmente però poi questa una come dire anche un lavoro per il quale sono riuscito a girare veramente quasi tutto il mondo in un modo per il cinema per la musica anche per i miei documentari sul coleonlus sui diritti umani quindi e poi come allora quindi tu hai iniziato a girare e i primi contatti con le band in giro per il mondo come come è stato e lì sono diciamo attraverso i magazine i giornali ti mandavano a fare i ritratti la casa discografica poi magari piacciono le tue foto e ti chiede se vuoi anche di seguire o il management ti chiede se vuoi di seguire il tour oppure di fare le foto io per esempio ho fatto le foto su con gli due a milano perché io ho detto io ho detto proprio così quando mi hanno chiamato siccome quando vai a fare foto per un giornale diciamo un concerto hai un pass che vale tre pezzi lo so bene i primi tre di solito i primi tre il primo e il terzo il secondo dove non succede quasi mai niente niente sì quando le allora loro si mettono sai come fa ti spiego allora si mettono al tavolo secondo me spieghiamolo per chi ci ascolta si mettono al tavolo e dicono allora in quali canzoni facciamo le luci più di merda possibili guarda secondo me la 1 la 3 la 5 ok diamo il pass per la 1 la 3 la 5 quello c'è un motivo c'è un motivo prima perché in quel momento nel pit che è lo spazio che sta diciamo nel backstage in basso prima del tra il pubblico e la band ora poi il pit è diventato molto più grande per le grandi band no però è chiaro che se tu canti e c'è intorno 20 fotografie vanno avanti e si spostano poi quelli non ti guardano proprio perché ovviamente stanno 50 mila persone davanti 30 10 quello che siano e hanno solitamente l'improvvisazione molto leggo non esiste quasi perché hanno un problema di fonica di acusti di ritorno quindi i movimenti sono quasi tutti segnati ok anche quelli che sembrano più guarda che sta facendo prende la ragazza lì ci balla adesso ogni sera succede esattamente allo stesso centesimo di secondo dello stesso pezzo quindi allora tu giri fai quello a un certo punto ovviamente ti dicono di fare tre pezzi ma io non è che vado a tokyo a new york a dusseldorf amsterdam a fare tre pezzi prendo le macchine torno a casa difficile quindi ti rimango nel pubblico anche a quelli poi trovai sempre persone lasci qualcosa poi ritorni dai una macchina ritorni là ti riprendi il 300 il 24 quello che ti serviva e fai tutto il concerto quindi e poi piano piano spedivano le foto di queste robe che tra l'altro non si potevano nemmeno fare un giorno mi chiama proprio paul mcginnes degli u2 dice senti volevo fare questo tra l'altro vedi adesso non dovrai più rubare tutte le foto finali e io dico così scusa ma non c'è anton corbin che fa le foto dove anton corbin perché mi chiamata a me e no perché santo corbin non c'è eccetera eccetera e poi tutta una storia così quindi anche lì e quindi i contatti arrivano quel modo là più o meno insomma in divenire in qualche modo cioè sì è come se tu fotografi degli attori un regista e quello gli piace il tuo modo di fotografare dice ma perché non vieni a fare foto sul set con me perché non fai il poster del film a quel punto devi parlare con la casa di produzione con la distribuzione c'è tutto è incredibile io credo che ci sia una legge aurea no senza andare troppo nell'empirico però che nel momento in cui tu muovi tanta energia alla fine quell'energia porta un risultato che tu non sai esattamente dove quando nel tempo ma da qualche parte alla fine ti rigira e ti torna indietro no è questione sempre di quanto sei disposto a creare movimento e appunto sì energia in qualche modo costanza in quello che fai no e poi ti torna in modi incredibili come te cioè io mi immagino a te da ragazzino ti dicono guarda un giorno scatterà gli U2 e tu dici sì va bene va bene no ma poi ti ripeto mi chiamano da Los Angeles e si dice guarda sono il manager di Morrissey ti voglio chiedere Morrissey verrà a Roma abbiamo visto le tue foto vorremmo fare con te la copertina e sei singoli del nuovo album e dico sì sì vabbè ciao lo richiama e io dico dai Fausto dai non è venuto e parla in inglese non mi chiamare pensavo fosse un mio amico discografico italiano ma davvero hai fatto così quello mi richiama aspetta non attaccare un secondo sono veramente Jed il manager di Morrissey lui vuole parlare con te perché ha un'idea sui film di Pasolini quindi mi passa Morrissey io al telefono non volevo dire niente do you know Pierpaolo Pasolini do you know a Cazzone mamma a Roma dico sì certo li conosco e poi da lì è partito ci siamo rivisti a Roma siamo stati sei mesi insieme a fare location giri lo stesso con Mark Knopfler nel senso che lì non c'è una questione che tu sei la star e io sono il fotografo no c'è una questione di condivisione ripeto di nuovo di condivisione e di come dire mix tra quello che sei te e quello che sono loro Mark Knopfler ma anche loro mi mandavano il disco da ascoltare non è che avevano paura che io potessi craccare il disco fare le copie o mandarlo in gioco non esiste questa roba qua non esiste loro te lo mandano dice lo ascolti in più ti mando 5 location che noi avremmo immaginato dimmi per te qual è la più giusta quello che tu senti rispetto al disco questo è un modo di lavorare almeno anglofono o anglosassono capito che è un modo di un grande modo di rispetto della persona nel senso tu fai le foto tu fai il videoclip e lui ti chiede come lo vuoi fare io e disco io non è che dico a Mark Knopfler come deve fare i finger pink e suona la chitarra anche perché Mark Knopfler ha prodotto più di 10 dischi di Bob Dylan oltre a tutte le sue rome capito cioè sempre quando fanno le cose dei chitarristi c'è sempre Mark Knopfler avanti dietro c'è Eric Clapton poi c'è quello Steve Byte c'è tutta gente che sta lì e lo segue eppure quando sei all'onda dice did you have any time for hanging out a coffee or going out together io dico no volentieri perché poi è ovvio perché come dire ti sorprende sempre questa sono delle persone normali come noi ma sì ecco questa cosa me l'avevano chiesta anche no che magari la rock star ecco non è che uno va in giro tutto il giorno a spaccare chitarre come fanno sul palco ma sì ma guarda Johnny Rotten è una persona sta lì che sente la musica lirica Johnny Rotten intendo dei Sex Pistols no sì il famoso just for money tour però a un certo punto è gente che legge i libri che cucina che mangia e fa la vita come tutti quanti con le loro ovviamente con tutti con le loro bui luce ma guarda c'è sempre questa impressione che la persona famosa e forse a un certo punto è anche giusto cioè ci sta fino a un certo punto anche che abbia questo distacco umano da noi no l'idolatra non l'idolatra però vederlo come un idolo in qualche modo qualcosa di distante quasi un'altra razza no ma in realtà alla fine poi tutti siamo mossi dalla stessa energia quindi abbiamo tutti i nostri come dicevi tu i nostri punti bui i nostri i nostri punti forti abbiamo i nostri momenti normali cioè io mi immagino sempre tutti per esempio guidano la macchina da solo in mezzo al traffico e cioè qualsiasi persona no insomma certo se poi quella macchina guida airton senna la guida in maniera molto diversa probabilmente sì probabilmente sì è ovvio però sì sono molto più normali di quelle che sembrano straordinari cioè straordinari nel senso sono straordinari sì sì finisci scusami sono straordinari nel loro campo nel loro mondo ma poi sono persone normalissime che rispondono all'umanità delle persone perché poi io credo che certo rispondono a un enorme umanità perché loro rispondono a milioni di persone questo è il fatto va bene famoso bob marley di cui sopra era uno che muoveva milioni di persone john lennon muoveva milioni di persone per questo l'hanno seguito quelli della scia per anni perché avevano paura più di john lennon che di quelli a cui andavano a fare la guerra in vietnam capisci la follia no è questo è sempre così nel senso che fa molto più paura un intellettuale guarda saviano che deve avere la scorta da 15 anni perché la mafia la camorra più paura di saviano che della dello stato capisci e questo è un segno abbastanza perché saviano un artista pure lui in qualche modo no quindi ma e ma lo stesso era banca banca cassius clay cassius che è stato mandato in galera perché non voleva andare a fare la guerra in vietnam è stato messo in galera cassius che era era è come dire l'immagine dei neri in america ha vinto le olimpiadi era il pugile più famoso al mondo ancora adesso è uno dei più famosi al mondo almeno come etica come no certo l'ho messo in galera pure cassius clay perché non era d'accordo sulla guerra in vietnam quindi è pieno il mondo di queste di queste john lennon un pezzo famosissimo di john lennon di working class hero è stato censurato e uno di una radio va bene di washington il direttore di una radio di washington per averlo passato è stato arrestato per un mese perché c'era una una frase una una striscia di una frase dentro una canzone che andava conto tipo il governo e quello hanno messo in galera il direttore della radio incredibile quindi ma secondo me e questo ovviamente sono ancora adesso chi è cioè quando c'è un problema di umanitario a chi è che vanno a chiedere anche adesso basicamente per il covid chi è che si è naturalmente prostrato sempre per raccogliere i fondi no artisti ma è che uno dalle istituzioni dice adesso un istituzioni come dire fanno loro un un charity non gli da nessuno ovviamente i soldi perché nessuno si fida quindi tutti si fidano ancora gli artisti sono sempre i portavoce di un sentore popolare io devo dire anche con con perimetro e adesso l'ho rifatto con guido arari con perimetro abbiamo messo 100 fotografi ognuno dando un'immagine viene venduta a 100 euro questo non lo sapevo fossi tu insieme a loro e hanno alzato 650 mila euro in 15 giorni spero che la stessa cosa succeda con guido arari con wall of sound quindi io mi sono molto meravigliato perché dico vabbè qualcosa si farà però evidentemente questo momento in cui anche chi guarda le dirette chi si segue c'è molto tanti artisti parlano no e quindi molte più persone probabilmente si sono avvicinate magari alla fotografia io mi sarei mai aspettato che avessero venduto così tante foto quindi come dire la possibilità di un artista di arrivare ad altre persone è molto alta quegli stessi artisti sono umani prima di tutto e quindi come tutti gli umani fanno le cose quindi ripeto johnny rotten piuttosto anche che roger d'altri degli u o anche adesso è morto però come dire joe strammer dei clash non è che vanno in giro con la chitarra prendono il manico la spaccano per terra per la strada non fanno non fanno sono persone umane come ovviamente hanno una percezione più alta del delle loro possibilità riescono a esprimere le loro possibilità artistiche in maniera diversa tutti noi ce l'abbiamo però per una questione un'altra io questo l'ho provato molto andando a fare anche documentari sugli abusi sono in zone molto difficili se i ragazzini delle favelas ma pure a palermo a napoli da altre parti non hanno accesso a un tipo di arte difficilmente possono cambiare le cose mentre invece l'arte dovrebbe essere alla percezione o alla possibilità di tutti in modo che tu anche se vivi in una situazione disastrosa però quell'arte tipo a un certo punto nelle vene ti viene un prodomo di una cosa che tu c'hai dentro ma non riuscivi a scoprire quindi questo è successo anche per i rapper naturalmente che vivevano spesso da situazioni difficili e hanno questo vale per tutti basicamente assolutamente vale per tutti beh la ricerca del proprio talento che è lo stesso discorso che dicevamo prima alla fine la ricerca della propria unicità del proprio talento è davvero qualcosa di difficile e pensare e la cosa incredibile no è che il talento l'unicità è difficile da trovare dentro se stessi ma è così assurdo come gli altri possono percepirla se sono attenti se sono attenti a te no se si rivolgono a te perché io noto che tantissimi magari non vedono dentro se stessi una caratteristica che gli altri li riconoscono subito dicono no ma guarda che tu sei questa roba qui ovvio se non è nessuno che te lo dice che ti aiuta a esprimerlo soprattutto se parti in una posizione difficile magari anche di non so in qualche modo introspezione chiusura verso gli altri chiusura anche verso te stesso magari finisce che fai passi tutta la vita con un potenziale incredibile inespresso infatti proprio una sera a roma a un certo punto eravamo con mark noffer con stefano solli ma è il regista di gomorra e di romanzo criminale no e di suburre e anche di bandido il film che ha fatto un con benicio del tono negli stati uniti allora a un certo punto mark noffer io gli mando uno dei miei libri un libro che ho fatto su vent'anni di ritrati del cinema italiano mi chiama perché un'altra cosa che fanno gli artisti che se tu gli mandi un libro un pezzo musicale quelli lo leggono e se lo ascoltano non è che lo buttano capito è molto 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 diversa la cosa che io ho imparato in tutto questo tempo qualsiasi tipo di artista se tu ci parli di una cosa tu gli doni una cosa a quellui quella cosa se la legge l'ascolta non è che dice sì sì bello e marco lo guardo quindi a certo punto mark noffer dopo totti mi ha mandato il libro dice fabio ma il libro ma lì uno c'era chiara che è la mia compagna dice ma come mai che non c'è chiara così e poi mi dice ma però c'è il libanese c'è il freddo dico scusa in che senso sì libanese di romanzo criminale io non ho perso una puntata li conosco tutti gli ho stato così al telefono di marco noffler ovviamente perché le serie poi vanno in tutto il mondo come noi possiamo vedere a me piace molto piki blinders quella con la colonna sonora di nick cave e pj harvey magari a lui mi piace il romanzo criminale e quindi ho detto guarda quando viene a suonare a roma ci dobbiamo incontrare con stefano che è il regista e qualche attore quindi andiamo andiamo al concerto poi andiamo a cena insieme e ovviamente tutti sperano di parlare di musica non si è parlato per niente musica e tanto comandava mark noffer e quindi si è parlato e a un certo punto poi penso che mark e stefano solima si siano sentiti per una colonna sonora di un film a un certo punto lui ha detto perché c'era anche picchio favino che ieri ha vinto il davido natello mio carissimo amico da 30 anni dove si parlava proprio del talento no di quello che magari può diventare famoso oppure no mark noffer diceva proprio questo quando tu hai un talento e c'hai una cosa così forte dentro hai il dovere il dovere di renderlo pubblico a tutti poi ovviamente puoi avere più successo no perché anche il successo poi è un'altra cosa si può essere proprio tivo sì e poi non vuol dire che se tu vendi cento dischi un milione di dischi sei più bravo di un altro questo assolutamente però mark noffer quello che invece diceva se tu hai quella roba e la cosa la devi far conoscere a tutti perché è giusto che la gente conosca la bellezza che hai dentro di te tutto qua bellissimo assolutamente d'accordo sì perché è di questa bellezza che si nutre il mondo in qualche modo cresce no e poi quanto è di beneficio un musicista bravo che ti piace un fotografo bravo che ti piace cioè ti dà molto ti dona molto no ma io me ne rendo conto ovviamente oggi ho scritto una cosa perché sono 25 anni che lavoro con marco bellocchio sui set più tanti iniziati no gente anche per me quello è un dono perché lui inconsapevolmente a me mi ha donato moltissimo in tutti questi 25 anni umanamente intellettualmente e professionalmente perché ho imparato moltissimo anche per i miei documentari a girare o da lì delle scotte da marco tullio giordana da bertolucci da moreta tanti però a un certo punto anche dal giovane regista dal giovane amico mio che magari fa un primo film impari sempre qualcosa io dico sempre che per fare questo lavoro sei in un continuo fattori in una continua in un continuo apprendimento quindi sbagliatissimo pensare che uno fa una copertina e se è arrivato io ho fatto più di 130 copertine di magazine internazionali italiani e il giorno dopo ricominci sempre da capo questo bene hai sempre quel brividino lì hai sempre quel brividino lì uno è imposto dall'essere understatement è un po lo profile perché se poi come si dice adesso perdonate il primo che fa una scureggia diventa jimmy hendrix non è per niente così no adesso anche nella fotografia io vedo molte persone escono dalle scuole come escono le scuole pensano di essere avedon non è così quindi bene rifletterci su questa cosa eliot eruit ha fatto la sua foto una delle sue prime foto più conosciute a 18 anni ancora adesso io l'ho incontrato al museo l'altro anno mi dice io ancora anzi io sono stato fortunato che il digitale lo l'ho visto poco no l'ho sperimentato poco dice va per voi peggio dice però lui io dice io studio ogni giorno io cerco di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo eliot eruit cioè che non è proprio l'ultimo di cui stiamo parlando di quale si può parlare quindi quello che io dico in questo apprendimento quotidiano devi sempre un po metterti in discussione te ascoltare molto anche da tutte le persone che incontri che che ti possono dare molto a cui tu dai evidentemente molto però anche cercare di elaborarlo questa questa fruizione comunque al tempo stesso io credo cioè allora il problema è che non problema però magari uno vive sempre in proiezione del suo se futuro no dice vorrò voglio migliorarmi cioè è sempre intenzione per migliorarsi e va benissimo al tempo stesso è fondamentale anche dare importanza a quello che si fa in quell'istante c'è per esempio eruit ma anche mi viene in mente torinbert no quando l'ho esplicitato il suo primissimo cioè le sue primissime foto quelle a 16 anni con quella scatoletta lì tutta cionca cioè alla fine sono diventate la sua icona ancora oggi e lui quando sceglie una foto alla fine va a scegliere probabilmente quella del ragazzo del bambino col braccio così no e dici è chiaro è fatta a 16 anni totalmente incosciente eppure guarda cosa è diventato no e lui non aveva la percezione di quello che sarebbe diventato però aveva una necessità esatto e poi ha dato anche importanza a quel lavoro comunque cioè per lui quella roba era fondamentale quando la faceva no gli ha dato importanza come valore in qualche modo non l'ha la vissuta con ma no ma certo che no perché sei sempre te stesso no nel senso io per la cosa di perimetro che nell'ospedale di bergamo ho dato una foto di lucio dalla cui tengo molto anche per questa cosa di guido harari che è una foto di 15 anni fa di lucio un'altra foto che ho dato per questa campagna di guido harari ho dato una foto di tida swinton che è una delle foto più comprate dai collezionisti l'ho vista quella foto di lucio dalla prada ed è una foto del 91 quella di tida swinton quindi ed ero veramente un pischello c'è ho 26 anni quindi a un certo punto è ovvio che sia così tu hai delle cioè fare foto è anche una necessità la necessità di raccontare non è che se non c'è quella necessità è inutile farlo deve scaturire da un fuoco poter raccontare per poter vedere ricordiamoci che il fotografo è uno che vede più di quello che vedono gli altri se tu non vedi più di quello che vedono gli altri allora meglio che quel giorno quella necessità se non arriva non la non la usi perché adesso tutti fanno foto tutti fanno foto foto di queste foto poi non rimarrà forse neanche nulla poi io non vado di a discutere se le foto le fai col telefono con la macchina con l'asse blato col banco ottico uno le può fare cosa gli pare con la olga non c'è problema non è il mezzo perché tanto dopo il taglio della della di fontana come dire le possibilità espressive e la il corpum no come dire del l'hardware non conta molto secondo me quindi se uno vuole fare l mp certo l mp3 l mp4 è come dire concentrato di logaritmi e non ci stanno più tutti i suoni che c'erano più ossia 100 suoni vengono concentrati 30 40 ok in fotografia la stessa cosa in fotografia digitale nel senso che tanti colori tante informazioni vengono concentrate su dei pixel ma non mi interessa quella cosa la cioè non è un fattore filosofico secondo me fattore filosofico è la necessità di un poter raccontare qualcosa il tuo punto di vista il famoso punto quell'infinito istante di cui parla joff dier ecco quelle cose là oppure la il famoso adesso senza andare troppo sulla semantica però quel famoso significante significato di di roland barth o di giselle freunde bisogna centrare quel punto ecco quale consiglio daresti a no anzi è questo il consiglio che daresti a chi in qualche modo vuole affermarsi oggi in questo marasma di gente che vuole fare fotografia e soprattutto vabbè inizia a rispondere questo poi ti ne dico un altro ma allora sono due cose che secondo me non vanno troppo d'accordo il consiglio per affermarsi io non lo darei a nessuno nel senso io il consiglio che posso dare cercare di trovarsi se uno vuole fare un lavoro artistico se uno vuole parlare di vuole comunicare con delle immagini devi devi vederle prima queste immagini ok quindi devono essere detto la tua testa quel punto per avvicinarti a questo vuol dire che devi innanzitutto scattare molto e devi studiare pure molto nel senso studiare vuol dire non studiare solamente il diaframma il tempo ma studiare proprio studiare studiare la musica letteratura il teatro e anche la composizione naturalmente e poi come dire avere una percezione della luce che adesso le macchie rigidali vedono pure al buio però tendenzialmente la luce dovresti cominciare a capirla come funziona cominciare a vedere che i film sono fatti quasi tutti in controluce e che invece la maggior parte della gente fa le foto con la luce piatta già quello quello vuol dire proprio una mancanza di informazione e di percezione per le cose che si vedono quindi avere il controluce nelle foto i tre quarti la luce di taglio sono tutte cose che ovviamente fanno parte di un del mio quotidiano però dovrebbero essere alla base un po per tutti poi dipende naturalmente dal tipo di foto che fai però la luce è fondamentale in tutte le foto sia che fai reportage di guerra che fai lo still life che fai un ritratto o che fai la foto di rock voglio dire no perché pure se c'è un palco dei radio ed illuminato tutto backlight anche lì puoi trovare o dei massi vata che anche lì puoi trovare una luce a un certo punto per miracolo che possa andar bene oppure capire che quelle luci la potrebbero essere tipo un quadro di non lo so di william tarner ecco una tempesta di tarni dove c'è tutto quel cupo oppure capire che i quadri di opera hanno quelle luci di taglio i famosi bar i famosi ristoranti di opera hanno un taglio che spesso potrebbe essere simile ai film di lynch per esempio e quindi anche alla musica di bob dylan di arlo gatry o alle poesie di alan gisberg e questo poi sai anche quel famoso botto che è successo tra la musica popolare e la poesia da cui è imprescindibile no questa cosa qua come è successo anche anna tra i cantatori napoletani quelli di genova naturalmente no dove la musica si è incontrata la musica popolare si è incontrata con la poesia il fotografo dovrebbe tentare di fare anche questo proprio di vedere e attraverso la sua percezione di di vedere percettivamente quello che c'è davanti a sé che non è facile insomma però però le cose facili sono certo certo o no assolutamente tanto mi è venuto in mente che hai scattato anche molto con caparezza no sì tanto sì altro super intellettuale lui sì caparezza era stupendo perché lui cominciava ad avvicinarsi a zappa io sono uno zappiano come dire poi sono nato anche il 21 dicembre come frank zappa quindi a un certo punto negli anni ho detto ma questo uguale a me c'ha gli occhi a pesce come me c'hai baffi pizzo così per nasone io per fortuna ho superato i 50 invece zappa è morta 50 e e quindi sì michele è una persona straordinaria di grandissima sensibilità prima ancora di dire grande cultura musica sì quello sicuramente però grande sensibilità come tutti gli artisti naturalmente nel senso hanno la sensibilità molto aperta poi lui c'ha anche pure tante cose parallele progetti paralleli molto divertenti non so se li conoscete però è molto interessante poi è uno che ha crea mi ricordo ancora proprio il suo primo disco come si chiama abbiamo fatto belli dove c'era che era prima era dopo di michi 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 sa che lui si chiamava in un altro modo prima di capparezza no quello è prima quello è prima poi ha fatto musica leggera e poi ha fatto tante altre cose però diciamo lì dove c'era il secondo album è sempre più difficile quello prima sono fuori dal tunnel ecco su quell'album noi passiamo un sacco di tempo a molfetta a casa sua in puglia in questo garage dove c'era una grande poster di zappa mi ricordo ancora tutto molto anni 70 nell'arredamento abbiamo cenato con sua madre stupenda tutti i suoi amici questo cento volte e devo dire che michele ha creato proprio un nuovo come dire un nuovo modo di fare musica non facilmente incastonabile dentro un nome no? certo no poi è bellissimo questa cosa che comunque con gli artisti soprattutto tu insomma trovi il modo poi comunque di entrare proprio all'interno della loro vita e non di essere semplicemente il fotografo ma sai che c'è quello quello innanzitutto dipende da te poi quell'entrare nella loro vita se io ho le foto di michele con la madre i suoi amici non è che poi quelle foto là io le vado a dare a un magazine ah no certo quindi c'è un rapporto anche di complicità e di trust in come si dire di fiducia io ti credo tu mi credi ma quello è quasi istantaneo quello basta guardarsi un po' non le cose le capisce e poi dopo ti parli e quindi capisci che anche c'hai delle cose simili no? come quello che dicevamo prima però a un certo punto credo che sia necessario conoscerci allora ripeto tu puoi fare delle foto per una settimana con una persona oppure per tanti anni eh per un giorno per sette minuti anche in quei sette minuti devi cercare di mettere di essere empatico come diceva Ivar Arnold famosa fotografa anche lei Ramagno che andava sui set amica di di me e Morro che andava sui set insieme a Robert Capat Erwitt diceva proprio questo quando tu fotografi qualcuno devi mettere da parte il tuo egotismo la tua autoreferenzialità e donarti in qualche modo no? e prendere quello che vi è stimolare e prendere quello che vi è sono molto d'accordo su questo poi ovviamente dobbiamo cercare di portare a casa qualcosa come si dice fotograficamente però eh devi ascoltare molto e ti devi anche un po' donare in qualche modo perché se no se io vengo a fare le foto a te ti dico adesso fai questo 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 e tu non è che sei un'automa cioè come dire un minimo vorrai no? poi c'è gente più chiusa più aperta però questo è il mio modo di lavorare quindi vuol dire che poi magari stanno rapporti ventennali con attori attrici musicisti scrittori però no chiaro chiaro beh l'empatia è sempre a base peraltro una delle cose che ho capito in questa intervista è che poi vabbè l'avevo già capita prima però ne ho avuto lì la conferma è che alla fine comunque un grande per un grande fotografo il click è solo la minima parte di quello che è essere fotografo no? cioè essere fotografo in realtà poi è tutto il resto i fotografi che lo sono per davvero lo sono sempre indipendentemente dal fatto che abbiano o meno in mano la macchina fotografica no? creano relazioni a prescindere no ma io dico sempre dalla fotografia e la fotografia è una conseguenza beh io dico sempre ai miei assistenti quando arriviamo in studio loro dicono allora che macchina prendo? che obiettivo metto? c'è nessuno? che macchina mettiamo? a chi guardiamo le foto? c'è nessuno? siamo io e voi? c'è ancora voglia? nel senso no? quindi c'è subito questa è l'impostazione delle scuole una macchina l'obiettivo cioè René Cleran arrivava su un set di un film e diceva vedeva tutta la cassa piena di obiettivi diceva dove è il 50 mm? benissimo quegli altri chiudetevi il primo libro di Cartier-Bresson si chiama 50 fatto tutto col 50 mm allora io farei io tenterei anche di fare proprio degli esercizi per chi vuole fare foto di usare un obiettivo va bene? e vedere cosa ci puoi fare con quell'obiettivo perché adesso in tutti i foto amatori quelli evoluti e ricchi quando io vado a fare i miei workshop arriva gente che ha 70-80 mila euro d'attrezzatura però spesso blind bene allora ma che non è un giudizio è una presa di coscienza nel senso che mi dispiace perché prima di comprarsi tutta quella roba là intanto fate le foto pure con la Olga ma infatti no ecco perché poi dopo cioè per esempio non so io vedere sapere quello che uno vuole poi dopo affini e quindi ti piace anche un obiettivo ma intanto sapendo che noi vediamo con un 35 circa allora cerca di capire se poi vuoi stringere allargare il tuo punto certo certo assolutamente ma che poi ci sta un po' non so io non sono feticista in realtà però ho delle preferenze delle macchine che mi piacciono parlavo prima e ci sta no anche perché forse rappresentano un po' il tuo modo di vedere senti che c'è il feeling giusto cioè che quella ecco per esempio non so per quello che è successo a me io ho trovato delle macchine degli obiettivi delle cose che rappresentano il mio modo di esprimermi al 100% no è come dire ok non è che scelgo questa cosa perché è più bella delle altre lo scelgo perché per quello che voglio comunicare io è lo strumento con il quale mi sono trovato meglio per farlo e ci sta però come dire se avessi un'altra macchina un altro obiettivo faccio lo stesso quel che devo fare cioè non è che sai io ogni tanto lo vedo vedo anche sempre i ragazzi che lavorano che vengano ogni tanto allo studio aprile a gas a Ford e ci saranno più di 50 macchine e tra le Laigan le Nikon le Canon le Fuji e poi ci stanno una decina di Polaroid delle SX70 quelle di Andy Warhol quelle le Polaland quelle grandi e fanno il 10-12 le lastre e poi il banco ottico e poi l'Asselblad e poi la Fuji la Fuji 6x9 la Fuji non 6x19 e poi la Pentax 6x7 la Contax insomma tantissime un giorno voglio vederla con la casaporte va bene no quello che volevo dire è che di tutte quelle macchine lì io poi ho usato anche una decina di Rolliflex io all'epoca ero conosciuto 25 anni quando andavo a Cannes a Toronto ai festival a New York perché ero the guy with the Rolliflex il ragazzo bellissimo quando tutti usavano sempre le Nikola e Cannes a me mi facevano un orrore perché c'era quel rumore del motore la Rolliflex ti obbligava ad avere un'attenzione come l'Asselblad però la Rolliflex non c'ha lo specchio quindi se devi scattare un trentesimo e c'è poca luce e devi assare tutto diaframma ci scatti capito io per esempio rispetto alla scuola di Stiglitz di Ansel Adams che facevano F64 dove deve essere tutto perfetto preciso la luce deve essere perfetta poi a me invece piace scattare a 2.8 tutto aperto a rischio perché mi piace molto il fuoco selettivo quindi avere tutto a fuoco che purtroppo in digitale è fuoco da qua fino al mare non mi piace molto quella cosa là no? e quindi quello è già un fatto quindi la Rolliflex imponeva innanzitutto uno square destra per sinistra quindi no? che difficilissimo ma guarda io dalla Rolliflex per fare bianco e nero uso sempre quello io è la mia macchina preferita analogica ho comprato in tutto il mondo a New York a Londra ma poi vabbè formato quadrato e poi anche questa roba che è tutto al contrario che comunque cioè la prima volta è che io l'ho utilizzata di recente per la prima volta diciamo per fare una roba così non prendere le mani a giocare però tipo proprio per fotografare cazzo stavo impazzendo no? perché poi tu dici ah ok mi devo mettere a destra e poi no la destra è verso sinistra no però su e giù cioè sei capito ti divide la testa però al di là di questo proprio il fascino di quella macchina ecco quella è la macchina che io amo in assoluto e che più si avvicina alla mia visione peraltro il formato quadrato a me stimola tantissimo tant'è che tante foto in digitale poi io le penso già quadrate le taglio quadrate perché per esempio il taglio quadrato a me piace davvero molto come sì 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 poi insomma basicamente perché io mi ricordo le prime foto che vedo da ragazzo David Bailey usava molto Rollerflex e Hassel David il Queen Pen David anche molto il banco ottico però insomma c'erano anche tutte le foto che vede insomma se uno poi guarda le foto di Vivi e May erano fatte tutte con la Rollerflex no non è che le faceva con perché c'è un'impostazione certo una scelta anche quella una scelta fisica Fabio io ti ringrazio per questa bellissima intervista è stato super abbiamo unito questo mondo allora di solito io racconto un po' la storia della persona eccetera a fine l'abbiamo raccontato ma è stato parziale perché la bellezza di questa intervista è stata poi come dire il racconto della fotografia attraverso anche le altre arti la musica l'arte in generale il cinema eccetera che sono caratteristiche che ti contraddistinguono tu si vede che ce l'hai nell'anima ed è bellissimo come sia uscito questo intermezzo quindi grazie ti ringrazio davvero mi piace chiudere di solito con tre domande velocissime la prima sì sì facile la prima è un libro che consiglieresti e di che genere allora c'è un libro di letteratura un libro di fotografia ti lascio libero di scegliere se vuoi puoi fare uno e uno ma allora per quanto mi riguarda vabbè un libro è difficilissimo un libro solo se vogliamo parlare di un libro di fotografia direi quasi tutto Roland Barthes però anche l'infinito istante non so se si trova ancora di Geoff Pierre il capolavoro di uno che non è un fotografo non è un saggista ha chiesto anche di musica è straordinario di fotografia direi passages di Irving Penn piuttosto che Americans naturalmente di Robert Frank o Uncertain Robert Duaneau oppure Lindbergh tutto quello che ho trovato di Lindbergh piuttosto che Cyclops di Albert Watson sai Twins di di Diane Arbus insomma i libri sono infiniti sto cercando qua per quelli che ho davanti naturalmente ma anche Herb Ritz Mapp Newton questo per quanto riguarda il mio reportage poi ovviamente potrei consigliare anche dei libri bellissimi dei miei amici di Stefano De Luigi che è blanco di Davide Monteleone di Mario Spada cioè grandissimi foto di Francesco Zizzolo ovviamente di Esire un capolavoro Paolo Pellegrini insomma anche in Italia ci sono tantissimi libri che possono essere poi sicuramente non lo so anche Gian Paolo Barbieri è stato un grandissimo fotografo di moda italiana ha portato la moda in tutto il mondo ah vedo chiaramente ok e qui finiscono i nostri soldi qua un libro esatto anche perché qua finisce lo stipendio il mio portrait se volete vedere un po' di ritratti vicina ma va bene a parte quello un libro e poi di letteratura beh sicuramente un po' Dostoevsky però a me piace molto anche la i romanzi di viaggi quindi tutta la The Generation pure insomma Kerouac John Fante John Fante Calvino vabbè ma così è molto ok sì 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 ok perfetto hai fatto tipo una libreria intera però interessante non interessante poi uno si sceglie quello che sente più risuonare con se stesse ecco certo poi invece un film o serie tv che consiglieresti allora un film direi sicuramente la dolce vita perché è quello che a me mi ha preso poi da lì tutto Fellini tra l'altro ho visto che Fellini ora lo rifaranno anche forse su Rai Premium una cosa del genere dalla settimana prossima perché sono i cento anni di Fellini quindi ovviamente Fellini ma direi pure De Sica Zabattini Rossellini Elio Petri Comencini e poi Antonioni ovviamente Charlie Chaplin direi di vedere Il Grande Dittatore sai molto la vita è meravigliosa di Frank Capra ce ne sono tantissimi di film anche lì che mi hanno Citizen Kane di Orso Wells Accattone mi fa sognare insomma i film sono tanti però quello che per me ha preso di più era la dolce vita e la dolce vita ok e poi in ultimo ma non ultimo un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa tornare utile e interessante a un fotografo un oggetto sotto i 10 euro proprio lui una bottiglia di birra ci sta ci sta beh non è male così come dire per per togliere i freni inibitori in qualche modo no perché stavo pensando a un vino ma i vini possono anche costare anche 10 euro però una una bella bottiglia di birra da bere prima e durante e dopo anche va bene io ti ringrazio Fabio davvero dal cuore è stata una bellissima intervista ti ringrazio per questo contributo grazie a te poi figurati abbiamo un sacco di passioni in comune anche se mi rendo conto quando parli che dico grazie quante cose devo studiare ecco sì alla fine di questa intervista penso devo passare i prossimi 20 anni a studiare in modo approfondito però diciamo che questo è stato proprio da cioè dai miei 16 anni è stato un po' sempre così da quando ho avuto questo da quando ho visto quel film di Fellini è proprio cambiata la mia percezione diciamo da ragazzo ragazzetto diciamo forse la terza media dopo la terza media a che età hai iniziato proprio professionalmente a fare il fotografo a vendere le prime foto te l'ho detto è stata la prima venduta è quella di Sì no vi hai detto che però non mi hai detto a che età 26 anni 25 ok 25 26 adesso dovrei andare a rivedere perché credo che fosse 89 io ho iniziato a 28 insomma ho tre anni indietro più tutto quello che devo recuperare insomma va no non sa però non conta quello considera che Salgado prima faceva l'ingegnere quindi sì no ma poi guarda comunque è davvero incredibile da cui sono passato anche anche questo mi piace perché questo è uno specchio ovviamente piccolo della realtà fotografica no cioè potreste qui tutta la vita intervistare fotografi e non finirei mai però comunque diciamo che è un in qualche modo sì appunto lo specchio di quello che poi è l'environment no di fotografi che ci sono nel mondo ed è incredibile come non ci siano regole come c'è chi inizia cioè ho intervistato alcuni che mi dicono io mi sono svegliato sono nato così e tre giorni dopo già scattavo foto incredibili dici come facevi e chi sei cioè a due anni mi hai già deciso che avrebbe fatto il fotografo e dico va bene e poi invece se intervisti la settimana dopo un'altra persona e questo ti dice no guarda io ho iniziato a 34 anni 35 anni dopo che neanche immaginavo che fosse la fotografia il mio mondo quindi insomma diciamo che la cosa e ci tengo a sottolineare lo dico tutte le interviste però tutte le volte torna sempre questo cioè il riuscire a trovare una propria identità scoprirsi è la chiave poi per insomma per esprimersi al meglio ecco sì 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 un libro che mi viene ora parlando di libri prima un libro stupendo è un libro di Patti Smith che si chiama Just Kids dove lei racconta in copertina c'è lei e Robert Mappertop una foto che gli hanno fatto un turista sulla spiaggia dove lei racconta il sogno che avevano lei e Mappertop di fare gli artisti poi sono andati al Chelsea Hotel a New York la vita per tutti e due è andata in un senso ma è bellissimo anche Life di Keith Richard dove spiega più o meno a 16 anni che voleva sempre andare via da scuola cioè si voleva sempre far cacciare da scuola per andare a studiare chitarra e sentire i dischi di Chuck Berry cioè ognuno però quelle sono dei bellissimi racconti di Patti Smith è poi molto commovente proprio il suo racconto con Mappertop è stupendo e Mappertop è stato un grandissimo artista poi tipo a piacere o no ma è uno che ha fatto un sacco di roba proprio ha inventato un certo tipo di moda che fosse quella più hardcore oppure gli still life i ritratti è una perfezione come Newton naturalmente tra l'altro Valerio dice lovine Turetta quarantena passata in mezzo alla fotografia ciao Fabio ciao Valerio Fabiana ciao Valerio Fabrizio ti saluta Anna Maria a Deva un sacco di gente ti salutano Angelo Fabiana ciao Angelo Alessio e Silvia chiude con Fabio grazie è sempre molto interessante ascoltarti grazie e Nicoletta dice Fabio sei immenso grazie quindi con questo con questa immensità di Fabio il lumino di immenso era una famosa a proposito di poesia e letteratura la sintesi di Ungaretti certo tre parole grazie davvero per esserci stato grazie da qua ciao a tutti saluto tutta la chat tutte le persone che ci hanno seguito un abbraccio grande ciao ragazzi fate foto ciao a tutti ciao ciao